L'aggettivo che mi rappresenta Come definiresti in una parola i cittadini saltaresi? Bravissimi Bellissimi Qual è la cosa che credevi impossibile ma che invece puoi dire ora c'è? Il museo del Bali Ma io penso che nel corso della storia del comune di Saltara penso che sia il museo del Bali Ti piace essere intervistato? Ma non saprei, dipende dai soggetti che intervistano È una cosa che odio Perché hai accettato? Perché mi hai sentito molto Ma in realtà mi hai obbligato quindi Vediamo la tua preparazione in materia saltarise Di il nome della tabaccaia della piazza del centro storico E il nome non lo so Penso il cognome è Stringa Cognome Stringa Che giorno sarà Saltarua quest'anno? Il 10 luglio 10 luglio Chi sarà il cantante principale? Si chiama Tricarico ma non lo conosco Sono solo chiamato quella maestra che non è una bravissima donna Tricarico Cosa pensi di Claudio? Che è un ottimo sindaco ed è un... e lo sa fare anche molto bene Digli qualcosa Bravo Claudio, siamo con te Cosa pensi di Gilberto? Bravo, si impegna, è giovane, è intelligente, è bello, tutto, anche altro Digli qualcosa A Gilberto Dai Gibo, andiamo Ciao, ciao a tutti Ciao